Ma dopo la partita è normale che ci fosse molto dispiacere, rammarico, delusione, perché comunque l'ho spiegato anche dopo la partita, quando ci sei in queste situazioni, diciamo di stabilità in campionato come pareggio perdi una partita sembra che crolli tutto il mondo addosso. Però i ragazzi hanno reagito bene, ci siamo allenati bene e ora bisogna domani scendere in campo facendo una prestazione della squadra con grande rispetto. È importante domani vincere e soprattutto cercare di non subire gol. Gianni Valzarini, Sport Mediaset. Volevo tornare su Vlaovic. Ti aspettavi più gol da lui obiettivamente in un anno che ce l'hai a disposizione nella Juventus tra l'anno scorso e quest'anno? È cresciuto tecnicamente, tu stesso avevi detto che deve crescere. La domanda in sostanza è perché segna meno rispetto alla Fiorentina? Io di Vlaovic sono contento, soprattutto nelle ultime partite, come quella di Roma, ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo a livello tecnico. Poi comunque giocare nella Juventus, fare il centro davanti di titolare nella Juventus ha delle responsabilità diverse. Però Dujan, io credo che sia cresciuto, sta crescendo. È normale, come in tutti i giocatori, ci sono momenti in cui le cose vanno bene e in cui le cose vanno meno bene. Gli attaccanti poi vengono valutati per i gol fatti. Ci sono delle partite in cui ha fatto gol ma ha giocato tecnicamente male e domenica che invece ha giocato una buona partita tecnica non ha fatto gol. Magari domani farà uno o due gol. Quindi domani magari dopo la partita verrà visto tutto in modo diverso. Però questo da parte interna, da parte mia, io credo come tutti i giocatori, devono lavorare tutti i giorni per poter migliorare. Che Moise abbia sbagliato a Roma lo sa anche lui perché è stato il primo a chiedermi scusa appena sono rientrato negli spogliatori. Però una cosa è successa, pagherà la multa perché la società gli farà una multa. Però è un giocatore della Juventus, un giocatore che è importante per noi, fino a questo momento qui ha fatto gol importanti. Siccome abbiamo tre mesi da qui alla fine della stagione, dove abbiamo domani l'Europa League, il campionato da giocare, la Coppa Italia da giocare, c'è bisogno di tutti indipendentemente dagli errori che fanno. Gli errori si fanno, si fanno tutti. Lui ha commesso un errore, ha pagato e sicuramente da questo errore non uscirà più maturo.